Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurito ragazzi e ragazze ed eccoci con questo nuovo episodio di Clops Party Inaspettato, lo so, lo so Questo fa presagire che voglio mostrarvi tutti i capitoli extra che ancora non ho fatto per poi passare al sequel Ahahahah, anch'io non vedo loro perché il gioco ce l'ho originale, acquistato da mesi e sta lì a far polvere, mannaggia a me Detto questo, voglio prima mostrarvi una scenetta segreta che non capisco il perché non si è riuscita a farvela vedere Non mi era apparsa, molto molto strano, mi ricordo il perché, forse avevo mancato qualcosa Ma non importa, finalmente ve la mostro Siamo nel quarto capitolo, Naomi sta in infermeria e sta per fare un sogno Sì Seiko Seiko Nel lettuccio Non riesco a fermare le emorragie dal tuo petto E da come avete potuto leggere nel titolo, avverrà una bella cosina Che serve che un mio morto che ci sta la morte, si vede sempre tutto bianco Naomi E' un'amica dal cuore d'oro E certo, sei la mia migliore amica E' un'amica dal cuore d'oro E' un'amica dal cuore d'oro E' un'amica dal cuore d'oro Aaaah... Naomi ha nato una pelle. Ahahahah. Con così tanto buco. Svergognata! Uruzzai na! Atasì... ...mou cacquo di freddo. Oiteって... Sàkki itte ne... Naomi. Naumi? Vaかったから… 心配しないで… 安心して… 寒くなってきた… Sei con… Stamorendo しまった… 私… キスもしたことないまま死んじゃうのか… イザああ… オープンにしった訉にすれば、 ちを死ぬ人とするわ 決まる… 私はそのために無いだって面 Geminiがしたから… 結局もう、 今日死 mightだ? どうかりやれました スタマンの女は? 美味入国より1人にどれ Doctor… 酔っあ… 決して… プレッスマなんベース、 仕事がせたい… アメですね、 ウォーマシカirmi億や悪 denke Начきた… 私は? Eh, mi scusa, mi puoi baciare? E mica, è furba! Eh, no, no? Sicuramente, se fosse avvenuto in un entai, ci sarebbe stata la frase Vuoi sverginarmi, Naomi, col tuo ditino? Bricconcella! Voglio sentire cosa si prova. Eh, è bello, Seiko. E sicuramente adesso sto facendo fantasticare tutti gli appassionati di Yuri and Tai. Ah, ok. Sì, sì. È come se adesso baciassi un ragazzo. Eh, ma tanto siamo entrambi i ragazzi. Che sarà mai come un bacio tra amici. E poi ci finì in mezzo la lingua intrecciata all'altra. Wow, che schifo. Posso anche scegliere. Ovviamente la baciamo. Eh, dobbiamo un po' fantasticare anche noi maschietti. E tutto si rese nero. Non è che hanno fatto pure il bim bum bam. Eh? Sono delle monellacce. Molacciata, Naomi no kiss. Mmm, avrei voluto vedere la scena. Wow, Naomi! È che Seiko è diventato un aspirapolvere e ti ha succhiato tutta l'aria della tua bocca. Ti ha fatto mancare il respiro, immagino. Porca miseria, è proprio un formichiere sta Seiko. Non si deve. Trazzi la scena. Le le levo. Te sono le levi. Ah. Miagino. 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 ha avuto il bacio dalla ragazza che ama se non l'avete ancora capito Seiko è veramente innamorata di Naomi e si risveglia così un bel sogno un sogno fanservice realizzato per tutti noi maschietti e anche per le ragazze amanti dello Yuri perfetto ragazze e ragazze l'episodio si conclude qua vi ho mostrato questa bellissima scena Yuri ah ah eccitante all'inverosimile per la gioia di noi maschietti ma anche di alcune femminucce e dai prossimi video che saranno circa 3-4 vi mostrerò tutti i capitoli extra che non ne ho mostrato neanche uno fino adesso e poi si passerà a seguere se volete commentate e ci risentiamo ai miei futuri video bye bye